Un convegno per il rilancio dell'agricoltura nell'area giulianese, dopo che negli ultimi tempi era stato etichettato come terra di fuochi. I prodotti delle terre del giulianese sono buoni, lo affermano i massimi responsabili del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Agricoltura. Il convegno al Palazzo Palumbo di Giuliano, dove hanno partecipato, oltre a esponenti del Governo, anche il Corpo Forestale dello Stato. È un momento importantissimo perché per la prima volta iniziamo a parlare di cose vere, di fatti concreti che accadranno per la nostra città di Giuliano. La presenza del Vice Ministro dell'Agricoltura sta qui a rappresentare per noi un momento fondamentale. Ci dice che i nostri prodotti sono sani, i nostri prodotti sono salubri e noi dobbiamo smetterla di pensare solo ed esclusivamente alla terra dei fuochi, ma dobbiamo ritrovare nel nostro territorio quella campagna Felix che ci hanno lasciato i nostri avi. È necessario andare in maniera molto concreta ad affrontare tutti i problemi. Da un lato, naturalmente, quello relativo all'identificazione dei siti pericolosi, andare a ragionare sulle bonifiche, ma dall'altro lato anche garantire la continuità delle produzioni buone, che sono tante, tantissime, la stragrande maggioranza di queste terre, facendo in modo che non venga svantaggiata quell'agricoltura di qualità e molte volte anche di eccellenza di queste terre. E noi vogliamo, attraverso anche progetti concreti, in particolare aiutando l'irrigazione, fare in modo che appunto continui l'attività e anzi si sviluppi e si qualifichi per quello che è, cioè un'attività altamente specializzata e di grande qualità. Siamo in campo a fare il nostro lavoro, che facciamo quotidianamente, soprattutto in questo territorio, nel contrasto a questo fenomeno della cosiddetta terra dei fuochi. Il nostro lavoro in questo momento si sta dispiegando, soprattutto per quanto riguarda un'attività di monitoraggio, che facciamo insieme alle altre istituzioni, in particolare insieme all'ARPAC, per appunto fare un'attività di verifica dei suoli, dei territori, in maniera tale da compiere una sorta di operazione verità e quindi poter dire, una volta che abbiamo concluso questo lavoro, quali sono le aree sane, quindi dove si può coltivare con serenità e quali invece sono quelle eventualmente da escludere.